Il 1911, l'anno in cui fu ritrovata questa tomba, fu un anno particolarmente favorevole per la spedizione italiana, per la missione archeologica italiana in Egitto. Infatti nello stesso anno venne ritrovata la tomba di Iti e Neferu, sempre a Jebelein, sempre a questo sito che possiamo localizzare a circa 30 chilometri a sud di Tebe, quella che oggi noi chiamiamo Luxor. Venne ritrovata infatti proprio lì un'altra tomba cosiddetta Asaf, una tomba semirupestre in cui vedete ci sono 16 pilastri con una corte scavata nella roccia. Questi 16 pilastri delimitavano poi un corridoio interno, da un lato del quale si aprivano poi una serie di cappelle. Ebbene, questa tomba scoperta e scavata nel 1911 aveva una peculiarità molto importante, ovvero che le pareti erano decorate da pitture che furono strappate dalle pareti e portate qui a Torino. Noi studiando gli archivi fotografici, studiando il nostro archivio storico, siamo riusciti a ricostruire la contestualizzazione archeologica e quindi siamo riusciti a costruire innanzitutto lo sviluppo di questa tomba. Dal primo pilastro alla fine della tomba ci sono 29 metri, esattamente quello che era lo sviluppo della tomba di Etiennefero. E adesso noi ci troviamo all'interno di questo corridoio, è come se fossimo all'interno della tomba di Etiennefero, e ci andiamo a visitare una delle cappelle, forse la cappella principale, quella che era riservata al culto di Etiennefero. E vediamo che è stata ricostruita ovviamente in dimensioni più allargate per permettere a tutto il pubblico la fruizione delle pitture e osserviamo alcune scene interessanti. Innanzitutto se osserviamo questa parete riconosciamo subito Etiennefero. Eccolo qui, Etiennefero è colui che ha il colore della pelle più chiara, è colui che dimostra di avere delle adiposità. Perché? Perché ovviamente rappresenta il suo stato sociale. Mentre gli altri devono lavorare all'aperto e si scuriscono quindi la pelle, lui questo non lo deve fare e soprattutto può anche concedersi di mangiare di più. Ecco quindi il suo stato sociale che viene ribadito. Qual è il titolo che lui ricopre? Imi Erver Mesha, responsabile dell'esercito. Quindi probabilmente uno che doveva raccogliere una serie di soldati. Sappiamo che venivano raccolti anche mercenari che dovevano poi combattere e supportare le truppe dell'antico Egitto. Vediamo qui la scena che viene rappresentata. La scena è quella della macellazione del bovino, il coltello che viene piantato nella gola, il sangue che fuoriesce e viene raccolto. Una scena quasi molto cruda è la macellazione stessa del bovino. Vediamo ad esempio addirittura la lingua viene conservata perché poi essa possa essere portata in processione e offerta alla coppia dei defunti. Ma di fronte a questa scena così cruda, osserviamo questa scena, quest'altra scena invece molto tenera, in cui il vitellino appena nato viene accudito con amorevolezza dalla madre. E lo vediamo qui. E sappiamo anche che è appena nato, che è un nuovo nato, perché vediamo dall'eterga della madre ancora pendere la placenta. Ecco quindi l'osservazione, l'osservazione che gli egizi sapevano dare degli elementi naturali, l'osservazione della natura. Noi dobbiamo a volte toglierci questi occhiali dell'interpretazione greco e romana sull'arte egizia, osservarla, osservarla in tutti i suoi particolari per capirne anche la valenza di osservazione che gli egizi sapevano avere. E se ci giriamo e guardiamo verso il corridoio e quindi fingiamo in questo momento di essere all'interno della tomba di Iti e Neferu e di essere a Jebelein. Osserviamo il corridoio, vediamo i pilastri e al di là dei pilastri vediamo una valle del Nilo, una scena nilotica con il Nilo che attraversa l'Egitto e ai due lati ha questa vegetazione lussereggianti. E' la tipica scena che noi vediamo in Egitto con il Nilo, fonte di vita, erodoto che ho citato prima, definiva davvero l'Egitto Doron tu Neilo, il dono del Nilo. Interessante però è vedere che questo non è un paesaggio nilotico a caso, non è una scena messa come decorazione, perché nel 1992 la dottoressa Donadoni Rovere, assieme al marito, al professore Donadoni durante il lavoro presso la tomba, presso Jebelein, mentre stavano facendo un sopralluogo presso la tomba di Iti e Neferu, proprio dal punto in cui la cappella di Iti vi era, fecero una foto del paesaggio che si vedeva e quindi in questo momento è come se noi fossimo in Egitto all'interno della cappella di Iti e Neferu, osservassimo al di là del corridoio e vedremo esattamente questo paesaggio. Allora, vedete, questa è una modalità per riportare l'Egitto all'interno del museo. Un museo, soprattutto un museo archeologico, è sempre un livello di astrazione, perché l'oggetto viene separato dal contesto in cui esso è, dal contesto innanzitutto domestico architettonico e poi l'architettura è separata dal paesaggio. Ecco quindi questo un tentativo di farci rivivere le esperienze che avremmo se fossimo in questo momento nella cappella di Iti a Jebelein. Attraversiamo quindi il corridoio e camminiamo come se fossimo davvero all'interno della cappella di Iti e Neferu a Jebelein. E vediamo come queste pitture che, se erano situate di fronte ad ogni pilastro, rappresentavano una delle serie di scene che si legavano anche a delle scene della vita quotidiana. Interessante, per esempio, è notare questa processione di asini che hanno delle ceste, delle ceste che ci fanno un po' sorridere perché sembrano messe quasi in posizione verticale. Dobbiamo in realtà capire e sapere che questa è una modalità di rappresentazione. Le ceste, ovviamente, le dobbiamo pensare come posizionate su ambo i lati degli asini e che siano in posizione così verticale è semplicemente una modalità di rappresentazione. Gli egiziani volevano rendere la loro arte il più fruibile possibile e l'unico modo per far vedere la cesta da ogni parte era renderla così in verticale. Da una parte, quindi, dei canoni di astrazione, su questo rimando tutti a leggere l'opera fondamentale scritta da Schaeffer's Principles of Ancient Egyptian Art, che ci fanno esattamente comprendere quali fossero i canoni di resa dell'arte egizia. Dall'altra volevo farvi vedere però un piccolo dettaglio. Vedete che gli asini vengono sospinti in avanti dal proprietario il quale ha un bastone e lì col bastone li invita, li sospinge ad andare avanti e questo ha l'arte della città ideale, a parte delle un po' 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 dalla città ideale, perché dice lui difzerei tusneus, corrompe i giovani, anche perché dice che l'arte greca è mimesis mimeseos, imitazione dell'imitazione, e quindi ci allontana dall'idea, ci allontana dal divino. Dice però sempre Platone, tutto questo ad eccezione dell'arte egizia, che invece sa catturare le idee a un grande valore allegorico e poi alla sua grande antichità, dice Platone, più di diecimila anni. Ebbene, abbiamo visitato la tomba cosiddetta degli ignoti, la tomba di Iti e Neferu, e la prossima volta vi porterò a conoscere come nel Medio Regno si sviluppi una modalità di sarcofago, di sarcofago a cassa, che però ha delle iscrizioni importanti, che sono sempre finalizzate al fatto che il defunto, dopo la morte, possa continuare a vivere per sempre. La ricerca può proseguire solo grazie a te. Continua con il tuo costante sostegno al Museo Egizio e avremo sempre nuove storie da raccontarti e nuovi contenuti da proporti. Grazie a tutti.